Morano Calabro conferisce la cittadinanza onoraria al dottor Santo Pasqual Vito, la scienziato di fama internazionale e figlio di moranesi emigrati a Porto Alegre in Brasile negli anni venti con la seguente motivazione per essersi distinto con la sua opera professionale nel campo medico e umanitario e per aver contribuito a dare risalto alla città di Morano Calabro in Brasile e nel mondo. Oggi si rinsalda e si rinfranca il rapporto tra Morano e Porto Alegre, città gemellate dal 1982 e soprattutto si dà onore al dottor Vitola, illustre chirurgo medico brasiliano che ha Morano nel cuore. Persona umile ma di grande capacità, di grande completezza, anche umana, per cui un grande momento per la mia comunità e per la comunità di Porto Alegre per la quale celebriamo questa bella manifestazione. Dottore si sente emozionato? Molto, sono parole generose, la generosità del popolo moranese si fa sentire e per me questo è un motivo di doppio orgoglio. Prima perché è un omaggio a me e dopo perché al stesso tempo è un omaggio a mio padre e mia madre che hanno lasciato Morano Calabro a 40, 60, 80 anni fa.